Rieccoci ancora insieme per un aggiornamento delle notizie di oggi martedì 24 agosto. Proseguiranno fino a martedì 14 settembre gli Open Days, l'iniziativa voluta dalla regione siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. La decisione di implementare ulteriormente l'attività è stata presa dall'assessorato alla salute in relazione all'aumento di positive al virus. Le somministrazioni avverranno prevalentemente con i seri Pfizer e Moderna. Da ieri al lab vaccinale di Sciacca le vaccinazioni sono riprese a buon ritmo dopo alcuni giorni di stasi dovuti forse alla festività di ferragosto. Si sono sottoposte alla vaccinazione 262 persone, 124 delle quali come prima dose. Da ieri sono tornati anche ai militari a supportare medici e infermieri addetti alle somministrazioni. Accelerazione anche a Menfi dove le vaccinazioni sono in percentuale minore rispetto agli altri comuni della zona. L'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria provinciale riporta solo due nuovi casi in provincia. 71 guariti, 5 nuovi ricoveri, 2 decessi a Favara e Oppolo Giancaxio. I ricoveri continuano ad aumentare. Sale a 25 il numero delle persone ricoverate in degenza ordinaria al Fratelli Parla Piano di Ribera. 28 i pazienti nella medicina Covid del San Giovanni di Dio di Agrigento, 3 le persone in terapia intensiva a Ribera. Invariato il numero delle persone contagiate a Sciacca sono 42. Migliore invece la situazione a Ribera che scende da 58 a 50 casi. Per tutti i 55 i comuni che oggi sono in zona gialla in provincia di Agrigento, lo ricordiamo, ci sono Licata, Porto Empedocle, Racalmuto e Ravanusa fino a settembre. È prevista l'applicazione di diverse misure, tra cui l'uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all'aperto dove sono presenti più persone, ad esempio strade e piazze, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni. 13 sbarchi con un totale di 272 migranti si sono registrati dalla mezzanotte fino all'alba di oggi a Lampedusa. Nella serata di ieri ce ne erano stati altri 4 con un totale di 70 persone che hanno portato il numero degli approdi per la giornata di ieri a 10 con 235 migranti. In 24 ore sono dunque giunti a Lampedusa 507 migranti. Torniamo a Sciacca dove si è chiusa la campagna per la raccolta firme per indire un referendum sull'eutanasia legale. In 10 banchetti distribuiti in 5 a fine settimana, gestiti da un gruppo di volontari simpatizzanti, sono state raccolte più di 900 firme. Per chi non è riuscito a firmare banchette a tempo fino ai primi di settembre presso l'ufficio elettorale della propria città di residenza o sul sito referendum.eutanasialegale.it per chi è munito di identità elettronica. E' tutto, restate su Corriere di Sciacca per le altre notizie della giornata. H24, buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.